eccoci qua a latina con una doppia data fantastica neanche a vasco gli hanno dato due date a latina gli hanno dato lo cha show e andiamo il merchandising è pronto andiamo a vedere questo teatro fantastico tecnico luci operativissima ha studiato guardate che teatro wow eh ragazzi questi sono sogni che si avverano guarda che che meraviglia di teatro dove ci danno la possibilità di esibirsi chiara sta dormendo no si sta allenando con gli anelli che ultimamente chiara con questi anelli un saluto agli amici di youtube chiara incinta aspetta un bambino sul palco siamo in tre aspetta e voglio vedere la platea da dal palco che che diciamo che merita il teatro è tutto esaurito sarà un grande show siamo pronti i più forti i più belli e dai più modesti e dai si soprattutto oh cha show punto it dot com no dot com dot it basta